Stupidi umani Il popolo di Atlantide esige giustizia Contro Brainiac Ho osservato la sua mente Percepito la sua forza Non puoi fermarlo Ma tu si Come va la testa? La sento vuota Nulla di nuovo insomma Canary, freccia, fuori dai piedi Chazana! Cyborg, dov'è il disturbatore di segnale? Arriva È sufficiente premere il grilletto Ma copre solo un'area limitata Brainiac dovrà trovarsi nel raggio d'azione D'accordo Percepito la sua forza Ce l'hanno fatta Scudi disattivati Supergirl, con me Victor, aiuta gli altri a combattere i beni Percepito la sua forza Percepito la sua forza Il segnale è più forte da questa parte Cosa sono? Voci Migliaia di voci Percepito la sua forza Quante lingue I Kriptoniani? I Kriptoniani Kendor Argosity Casa Dobbiamo aiutarli Non so se possiamo Deve esserci un modo Caro Zorael Credevo che la mia collezione di Kripton fosse completa La tua cattura La tua cattura la renderà tale I tuoi tentativi di fermarmi sono miseramente falliti Tu non sei eccezionale Sei solo un esemplare comune di una specie primitiva Uccidetelo 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 Io volevo fare un'entrata trionfale Dov'è Cara? È prigioniera da qualche parte a bordo La troveremo Ma abbiamo solo venti minuti prima che i Beta di Brainiac distruggano la Terra Dove sono gli altri? Stanno attaccando i Beta nel caso non ce la facessimo Ce la faremo Firestorm Cosa ti è successo? Brainiac ha fuso le nostre menti Ora pensiamo come un'unica entità E la tua bomba o orologeria come facciamo a superarlo? Anche Swamp Thing Brainiac ha sbloccato il potere del verde Ora è un esperto della matrice Firestorm Ciò che ha appreso sarà inglobato nella sua collezione E ho abbastanza di Brainiac e della sua collezione Hai mostrato di saperci fare a parole Ma ora è il momento dei fatti Il tuo immenso potere è limitato La matrice di Firestorm non ha limiti Grazie a tutti